Stava per dire, mi dispiace tanto di averti fatto aspettare, quando vide che non era affatto Gandalf. Era un nano con una barba blu infilata in una cintura d'oro e occhi vivacissimi sotto il cappuccio verde scuro. Appena la porta fu aperta, il nano si infilò dentro, come se fosse atteso. Appese il mantello con cappuccio sull'attaccapanni più vicino e... «Dualin, al vostro servizio!» disse con un leggero inchino. «Bilbo Baggins, al vostro!» disse lo Hobbit. Troppo sorpreso per poter fare domande. Quando il silenzio che seguì divenne imbarazzante, aggiunse... «Stavo proprio per prendere il tè! Volete avere la cortesia di venire a prenderne una tazza con me?» Un po' troppo formale, forse, ma l'intenzione era gentile. «D'altra parte, voi cosa fareste se vi arrivasse un nano inatteso e appendesse le sue cose nel vostro ingresso senza una parola di spiegazione?» Non erano a tavola da molto. In effetti, avevano appena attaccato la terza torta. Quando il campanello suonò ancora, e più forte di prima. «Scusatemi», disse lo Hobbit, e andò ad aprire la porta. «Finalmente sei arrivato!» avrebbe detto a Gandalf. Ma non era Gandalf. Al suo posto sulla soglia c'era un nano dall'aspetto decrepito, con la barba bianca e il cappuccio scarlatto. E anche lui balzò all'interno appena la porta fu aperta, proprio come se fosse stato invitato. «Vedo che cominciano ad arrivare!» Disse il nano, scorgendo il cappuccio verde di Dualin appeso all'attaccapanni. Vi appese accanto il suo cappuccio rosso e, con la mano sul petto, disse «Mbalin, al vostro servizio!» «Grazie», disse Bilbo sbigottito. Non era la risposta giusta, ma la frase «cominciano ad arrivare?» Beh, lo aveva sconvolto. I visitatori gli piacevano, ma gli piaceva conoscerli prima che arrivassero e preferiva essere lui ad invitarli. Fu colto dal terribile sospetto che le torte potessero scarseggiare. E a quel punto, come anfitrione, conosceva il suo dovere. E lo faceva anche se doloroso. Gli sarebbe toccato rinunciare alla sua. «Venite dentro a prendere un po' di tè!» riuscì a dire dopo aver fatto un profondo respiro. «Io preferirei un po' di birra, se per voi è lo stesso, mio caro signore!» disse Balin dalla barba bianca. «Ma un po' di torta mi va benissimo!» «Pan di spagna ne avete?» Altro che si ritrovò a rispondere Bilbo, con sua gran sorpresa. E si trovò anche a correre in cantina per riempire un boccale di birra da mezzo litro e poi, in dispensa, a cercare due bei pan di spagna tondi, che aveva cotto nel pomeriggio per lo spuntino dopo cena. Quando tornò, Balin e Dualin stavano a tavola parlando come vecchi amici. Per la verità, erano fratelli. Bilbo posò seccamente la birra e le torte davanti a loro. Ed ecco il campanello. Suonare di nuovo. «E poi da capo un altro squillo!» «Stavolta è senz'altro Gandalf!» pensò mentre sbuffava nel corridoio. E invece no. Erano altri due nani. Entrambi con cappucci blu, cintura d'argento e barba gialla. E portavano un sacco di attrezzi e una vanga a testa. Appena la porta fu aperta, balsarono dentro. E Bilbo non ne fu molto sorpreso. «Cosa posso fare per voi, nani miei?» disse. «Kili, al vostro servizio!» disse uno. «E Fili!» aggiunse l'altro. Ed entrambi si sfilarono il cappuccio blu e fecero un cortese cenno di saluto. «Al vostro e della vostra famiglia!» replicò Bilbo, che questa volta si ricordò delle buone maniere. «Ah, vedo che Dualin e Balin sono già qui!» disse Kili. «Uniamoci alla folla!» «La folla?» pensò il signor Peggins. «Questo modo di parlare non mi piace affatto!» «Devo proprio sedermi un attimo per riprendere fiato e bere qualcosa!» Aveva appena fatto in tempo a bere un sorso, mentre in un angolo i quattro nani sedevano attorno alla tavola e parlavano di miniere d'oro e problemi con gli orchi e razzie di draghi e di un sacco di altre cose che Bilbo non capiva e non voleva capire, perché avevano l'aria di essere troppo avventurose, quando, din-don, il campanello suonò di nuovo, come se un giovane hobbit discolo stesse cercando di strappare la manetta. «C'è qualcuno alla porta!» disse sbattendo le palpebre Dualin. «Circa quattro, direi, dal suono», disse Fili. «A parte questo, li abbiamo visti venire dietro di noi in lontananza!» Il povero piccolo hobbit si sedette nell'ingresso e si prese la testa tra le mani, domandandosi cosa fosse accaduto, cosa stesse per accadere e se intendessero restare tutti a cena. Poi il campanello suonò di nuovo, più forte che mai, e dovette correre alla porta e in realtà non erano quattro, erano cinque. Un altro nano era sopraggiunto mentre lui nell'ingresso stava domandandosi cosa succedesse. Aveva a malapena girato la maniglia, che furono tutti dentro. Facendo cortesi cenni di saluto e dicendo «Al vostro servizio! Al vostro servizio!» Uno dopo l'altro. Dori, nori, ori, oin e gloin erano i loro nomi. E di lì a poco, due cappucci purpurei, un cappuccio grigio, un cappuccio marrone e un cappuccio bianco, pendevano dall'attaccapanni e i nani si avviavano a grandi passi per raggiungere gli altri, con le manone ficcate nelle cinture d'oro e d'argento. Era già diventata quasi una folla. Qualcuno chiese della birra chiara, qualcun altro della birra scura, qualcuno il caffè e tutti delle torte. Così tennero lo Hobbit molto occupato per un po' di tempo. Un gran ricco di caffè era stato appena posto sul fuoco. I pan di spagna erano spariti e i nani cominciavano un giro di focaccine imburrate quando si udì bussare forte. Non uno squillo, ma un duro toc toc sulla porta verde dell'Hobbit. Qualcuno batteva violentemente con un bastone, Bilbo si affrettò lungo il corridoio, arrabbiatissimo e profondamente smarrito e turbato. Quello era il più strano mercoledì di cui avesse memoria. Apri la porta con uno strattone ed eccoli cadere tutti dentro, uno sopra l'altro. Ancora nani, altri quattro. E dietro Chara Gandalf che rideva appoggiato al suo bastone. Aveva fatto una bella ammaccatura sulla porta e in realtà aveva anche cancellato il segno segreto che vi aveva tracciato il mattino precedente. Attento, attento! Disse ridendo. Non è da te far aspettare gli amici sullo gerbino, Bilbo, e poi aprire la porta come un fulmine. Permettimi di presentarti Bifur, Bofur, Bombur e soprattutto Thorin. Al vostro servizio! Disse Bifur, Bofur e Bombur. Mettendosi in fila poi appesero due capucci gialli e uno verde pallido e anche uno azzurro cielo con una lunga nappa d'argento. Quest'ultimo apparteneva a Thorin, un nano estremamente importante, anzi addirittura il grande Thorin scudo di quercia in persona che non era affatto contento di essere caduto sullo zerbino di Bilbo e con addosso Bifur, Bofur e Bombur. Anche perché Bombur era enormemente grasso e pesante. Thorin in realtà era molto altero e non disse niente circa l'essere o no al servizio di qualcuno. Ma il povero signor Baggins gli chiese scusa tante di quelle volte che alla fine gli grugnì un «Di grazia, non importa!» e gli spianò il cipiglio. «Ah, adesso ci siamo tutti!» disse Gandalf osservando la fila di tredici cappucci i migliori cappucci da festa rimovibili, eh? Appesi alla Takavani insieme al suo cappello. «Proprio una bella combriccola! Spero che ci sia ancora qualcosa da mangiare per i ritardatari. Cosa ci sarà? Del tè? Oh no, grazie tanto. Per me un goccio di vino rosso, direi. E anche per me?» disse Thorin. «E marmellata di lamponi e torta di mele!» disse Bifur. «E crostata di mele e frutta secca e formaggio!» disse Bofur. «E pasticcio di maiale e insalata!» disse Bombur. «E ancora dolci e birra e caffè se non vi dispiace!» chiesero degli altri nani ancora e ancora attraverso la porta. «E metti su qualche uovo da bravo!» gli gridò dietro Gandalf mentre lo Hobbit arrancava verso le dispense. «Ah, e già che ci sei tira fuori il pollo freddo e i sottaceti!» «Sembra che sappia meglio di me cosa ho dentro le mie dispense!» pensò il signor Baggins che si sentiva completamente a terra e cominciava a chiedersi se la più grande sciagura delle avventure non gli fosse piombata addirittura in casa. quando finalmente riuscì ad ammocchiare su grossi vassoi tutte le bottiglie i piatti i bicchieri i cucchiai le scodelle e chi più ne ha più ne metta per portarli a lavare. Era accaldato rosso in faccia e molto seccato. «Ma vadano in valora tutti questi nani!» disse ad alta voce. «Perché non vengono a darmi una mano?» «Detto ho fatto!» Ed ecco lì Balin e Dualin sulla soglia della cucina e figli e chili dietro di loro e prima che Bilbo potesse dire lama avevano portato di corsa nel salotto i vassoi e un paio di tavolinetti e disposto bellamente ogni cosa. Gandalf sedeva a capotavola con tredici nani tutti intorno e Bilbo sedeva su una seggiolina vicino al caminetto mordicchiando un biscotto e cercando di fingere che tutto fosse perfettamente normale e neanche lontanamente un'avventura. I nani mangiavano e mangiavano parlavano e parlavano e il tempo passava. Alla fine spinsero indietro le sedie e Bilbo si alzò per raccogliere piatti e bicchieri. «Immagino che vi tratteniate a cena» disse col tono di voce più educato possibile per il momento. ma naturale disse Thorin e anche dopo probabilmente non risolveremo la faccenda fino a tardi e prima dobbiamo fare un po' di musica adesso sparecchiare al che i dodici nani e non Thorin che era troppo importante rimase a parlare con Gandalf balzarono in piedi e sparecchiarono la tavola impilando le varie stoviglie. Senza aspettare i vassoi si avviarono verso la cucina tenendo in equilibrio con una sola mano le colonne di piatti ognuna con una bottiglia in cima mentre lo Hobbit gli correva dietro quasi squittendo per la paura. «Per piacere! Fate attenzione! Per piacere! Non vi disturbate! Posso fare da solo!» Ma in tutta risposta i nani cominciarono a cantare «Spunta lame neanche poco! Rompi il bottiglio e tappi al fuoco! Scheggiature con tutto il resto! Questo bilbo lo detesta!» Ovviamente non fecero nessuna di quelle cose orribili e piuttosto pulirono e riposero ogni cosa sana e salva mentre lo Hobbit girava e rigirava nella cucina per vedere cosa stessero facendo.